Voglio ricordare chi sono queste persone, cosa hanno significato per me e cosa significano ancora. Eh, mi sono Dito. Ehi, ehi, Dito, sei una bomba in pista. Eh, eh, guarda chi c'è. Ehi, ehi, ehi! Basta, basta, calmati. Ai, quant'è rumorosa questa cazzo di città. Ma dovrei uccidere. Fattene! La prossima volta lo faccio. La prossima volta ti uccido. Parola d'onore. Io e Mike ce ne andiamo in California e voglio che tu venga con noi. Tu non vai da nessuna parte, Dito. Vuoi andare in Italia? Allora va a Malveri Street, all'Italino. Vuoi andare in Porto Rico? Va nella parte nord. Ci sono portoricani ovunque. Io voglio fare qualcosa della vita. Non posso restare qui. Qui è un incubo. Io sono il re e il re è seduto qua. Tu non sai che succede? Hanno sparato al mio amico. Vuoi andare? E allora vai. Dito, sono tua madre. Tuo padre è molto malato. Il tuo amico ha detto che passa a prenderti se vieni. Nerf mi ha detto che eri nel tuo angolo. Il mio angolo, Nerf. Ah, sei bellissima. Monty, guarda chi c'è. È venuto per portarti in ospedale. Tu non sei mio figlio. Vattene da questa casa. La verità? Hai ucciso tuo padre quando te ne sei andato. Adesso torna dentro e prenditi cura di lui. È tutto quello che ti rimane. Mi volevi bene o no? Rispondi. Mi hai mai amato! Va tutto bene. Va tutto bene. Sei anche mio figlio. Da retta al dito, lui sa quando è ora di andare. Alla fine ho lasciato tutto. E tutti. Ma nessuno, nessuno mi ha mai lasciato. Ma nessuno, nessuno mi ha mai lasciato.